Buongiorno. Nella parasha di questa settimana, Tol Doz, viene usata una strana frase per descrivere la gravidanza di Rebecca con i gemelli Esau e Giacobbe. Cito «Vaitrodzatsu habbamim Bekirbah». Di solito è tradotta così, «e i bambini lottavano insieme dentro di lei». Cosa significa? I nostri saggi ci dicono che ci sono quattro livelli di comprensione della Torah. Ogni livello è più profondo del precedente. Man mano che si scende sotto il livello superiore e si raggiunge quelli profondi, vengono alla luce nuovi significati. Anche se uno non crede letteralmente a una storia, può interpretarla come una parabola che fornisce preziosi insegnamenti. Questi quattro livelli sono, in primo luogo, lo pshatz, la superficie, il semplice significato delle parole. Poi il remes, l'accenno, il significato sottile, solo accennato. Quindi il drash, l'inchiesta, il significato derivato, accademico. Infine il sods, il segreto, il significato nascosto, mistico. Le prime lettere di questi quattro livelli compongono la parola ebraica pardes, che significa frutteto. Infatti un frutto si gusta su quattro livelli. Innanzitutto il gusto semplice, provato mangiandolo. Poi il gusto sottile, che rimane dopo averlo mangiato. Poi il gusto derivato, come il vino ottenuto dall'uva. Infine il gusto profondo, i ricordi a lungo termine associati all'esperienza di cui l'autore francese ebreo Marcel Proust ci ha parlato così tanto. Identifichiamo questi quattro livelli nel nostro versetto. Innanzitutto l'opshatz. Il significato letterale del verbo vaitrozhatsu è schiacciare o opprimere. Questo è l'unico posto in cui si trova quella parola nella Torah. Quindi la frase significa si sono schiacciati a vicenda. Questo descrive la relazione tra Giacobbe e Esau, come dimostrarono gli eventi successivi. In secondo luogo, il remes, il significato allegorico, deriva dalla radice di tre lettere della parola vaitrozhatsu . È abbastanza vicino alla parola raz, correre, e alla parola razza, desiderare. Lottare, correre e desiderare implicano una grande intensità. Sono tutte caratteristiche degli ebrei. Il sociologo Joel Kotkin ha concluso che questa è la parte del nostro DNA culturale, che ci ha aiutato a sopravvivere gli ambienti difficili che abbiamo affrontato nel corso dei secoli. Terzo lodrash, il significato derivato, o accademico, è che Esau e Giacobbe sono l'incarnazione stessa del bene e del male. Nel Midrash Esau è identificato a Roma, idolatra e assettata di sangue, mentre Giacobbe è identificato a Gerusalemme, vulnerabile e spiritualmente pura. Suggerisce che la nostra natura è determinata nei grembi delle nostre madri, che non abbiamo scelta. Interprete le parole lottarono dentro di lei come segue. Quando Rebecca si trovava vicino a sinagorie o scuole, i battei ha midrash di Shem e di Ever, Giacobbe lottava per uscire. Cita il profeta Geremia, prima di formarti nel ventre, ti conoscevo. Ciò significa che Dio conosceva la giustizia di Giacobbe fin dal grembo materno. Ma quando Rebecca oltrepassava i templi idolatri, Esau si sforzò di uscire. Cita il Salmo 58, i malvagi sono ribelli anche mentre sono nel grembo materno. Infine, la tensione tra idolatria e monoteismo si gioca in ogni generazione dei loro discendenzi. Esau cerca sempre di uccidere Giacobbe. Un altro punto di vista è che hanno litigato su come dividere il mondo che erediteranno. Infine, il Sod, il significato nascosto e mistico, si trova nello Zohar. Rebecca sentì la lotta che ogni persona sente dentro di sé tra il bene e il male. Non solo tra Giacobbe e Esau, ma dentro ognuno di noi. Il Midrash dice che entrambe le parti dovrebbero essere combinate per servire Dio. Che entrambe le parti sono necessarie. La Torah dice E Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. Qui, per la prima volta, Dio aggiunse molto a buona. Cosa è stato aggiunto alla fine per renderla molto buona? Incredibilmente, i saggi risposero l'inclinazione al male. Nahman disse, nel nome di Rav Shmuel, ed ecco, era cosa molto buona. Si riferisce all'inclinazione al male. L'inclinazione al male potrebbe dunque essere molto buona? Sarebbe straordinario. Sì, perché senza l'inclinazione al male, nessun uomo costruirebbe una casa, prenderebbe moglie, genererebbe una famiglia e si impegnerebbe a lavorare. Così disse il re Salomone, nell'Ecclesiaste, E vidi che tutto il lavoro e ogni successo nel lavoro erano il risultato dell'invidia e della rivalità dell'uomo con il suo prossimo. Il Talmud aggiunge che quando diciamo nella preghiera ve'ahavta, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, becholle vavcha, significa che dobbiamo amare Dio con entrambe le nostre inclinazioni, l'inclinazione a fare il bene e l'inclinazione a fare il male. Quindi, anche se ci sentiamo divisi, lottiamo, corriamo, desideriamo. Il nostro obiettivo è sempre quello di crescere in un'unica unità sana. Il Sodz, o significato nascosto della Torah, ha una lunga storia. Il Talmud parla di quattro influenzi rabbini che si dilettarono nel misticismo ed entrarono nel pardes. Uno morì, uno diventò pazzo, uno lasciò l'ebraismo, e solo l'ultimo emerse illeso. Questa è roba pericolosa. La Gematria, o numerologia ebraica, fa parte del Sod ed è molto popolare nella letteratura cabalistica. Consiste nel sommare i valori numerici di ogni lettera ebraica in una frase della Torah e trarre conclusioni da quel totale. Ad esempio, Giacobbe dice ai suoi figli, scendete in Egitto. Scenzi in ebraico è Redu, che si somma a duecentodieci. E infatti gli israeliti rimasero in Egitto per duecentodieci anni. Quante interpretazioni ci sono? È forse vero quel che si dice, che tra due ebrei troverete tre opinioni? No, otto. Il Maharsha ci dice che ci sono seicentomila modi per comprendere ciascuno dei quattro livelli, uno per ciascuno degli uomini ebrei presenti al Sinai. Ecco un altro esempio dei quattro livelli. La Torah inizia così. Bereshit bara elokim eta shammayim ve et haaretz. In principio, Dio creò i cieli e la terra. Lo pshat è che c'è un Dio e che ha creato tutto. Per il Remez, Rasci spiega che nel Libro dei Proverbi la Torah è chiamata l'inizio, reshit, e nel Libro di Geremia Israele è chiamata l'inizio. Quindi il versetto significa Dio ha creato i cieli e la terra per amore della Torah e del popolo ebraico. Il Vilna Gaon spiega che tutti i 613 comandamenti sono accennati nella priva parola Bereshit. Per esempio, pidyon habben, o la redenzione del primogenito, e nell'acronimo delle lettere di Bereshit, ben rishon aharei shloshi nyom tifdeh. Il primo figlio lo resimerai dopo trenta giorni. Per il Drash, il Midrash chiede, perché la Torah inizia con la lettera Betz? Risponde, perché il Betz è chiuso su tre lati e aperto sul quarto. Ciò significa che non ci si può chiedere cosa c'era prima della Torah, cosa c'è al di sopra della Torah, cosa c'è al di sotto della Torah. Bisogna preoccuparsi solo della Torah stessa. La Torah si chiude anche con un lamed, che ha l'aspetto di una barriera, il che significa non chiedere cosa verrà dopo la Torah. Il Sod si trova nello Zohar. Cito. Bereshit è la chiave con cui tutto è nascosto, poiché blocca e sblocca. Con questa chiave sei porte sono chiuse e sbloccate. Quindi, quando chiude a chiave quelle porte e le include in sé, allora è sicuramente Bereshit, una parola rivelata che include al suo interno una parola nascosta. Barà, ovunque appaia, è una parola che nasconde e custodisce un segreto, lo rinchiude e non lo dischiude. Allora, il significato semplice, il pshatz, è mai corretto? Sì, i quattro significati coesistono e sono complementari. Non possiamo scegliere solo quello che ci piace. In particolare, il Talmud afferma che il significato semplice della Torah non perde mai il suo valore quando vengono avanzate altre interpretazioni. Cito. Un verso non si allontana dal suo significato letterale. Questo punto è sottolineato dai commentatori. Rashi scrive, nessun versetto scritturale può perdere il suo significato letterale. Rabbi Albo scrive, nessuno ha il potere di abolire il significato letterale dei comandamenti mediante l'interpretazione. Ma si potrebbe indicare un controesempio, quando la Torah insegna la legge del taglione. Cito. Frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, proprio come ha inflitto un'offesa a una persona, così gli sarà data. Il Talmud argomenta in modo convincente che dovrebbe essere interpretato solo come compensazione finanziaria. In effetti, non c'è traccia che gli ebrei abbiano mai applicato l'ingiuzione alla lettera. Come conciliare i due insegnamenti? Forse dicendo che la compensazione finanziaria è l'opshatz, e che la compensazione popolare non vale affatto come significato? Il Rambam sostiene che la Torah parla solo di ciò che merita il colpevole, non di quale dovrebbe essere la punizione effettiva. Non significa infliggere danno a quest'uomo come ha fatto all'altro, ma che l'autore del reato merita giustamente di essere privato di un arto offerito nello stesso modo in cui l'ha fatto lui. In tal caso, perché questo approccio non si applica a tutte le punizioni? Altrove, aggiunge il Rambam, misteriosamente, cito, non devi sollevare obiezioni alla nostra pratica di imporre solo una multa, in tali casi. Qui si propone soltanto di dare la ragione dei precetti menzionati nella Torah e non di quanto affermato nel Talmud. Ho tuttavia una spiegazione per l'interpretazione data nel Talmud, ma sarà comunicata solo a voce. In conclusione, si possono sempre trovare nuovi significati della Torah? Certo, ma andando sempre più lontano dal semplice significato, non c'è pericolo di inventare qualsiasi significato? Questi quattro livelli sono forse il limite, o possiamo scavare ancor più a fondo. Potremmo finire con sciocchezze, con strane o inaccettabili conclusioni. Una cosa può forse essere interpretata per significare qualunque cosa, con sufficiente immaginazione? Si può forse derivare qualsiasi cosa da qualsiasi altra cosa? È un processo pericoloso, che richiede regole rigorose. Dobbiamo pensarci seriamente. Shabbat shalom. Grazie.